ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ara e benvenuti in questa nuova recensione oggi andremo a vedere finalmente il nuovissimo zarbon per la linea sh figures dedicata a dragon ball z prodotto ovviamente da bandai in edizione limitata ragazzi eccolo qui nella sua confezione ragazzi se volesse acquistarlo potete trovare sul mio sito ara shop nel link sotto in descrizione e vi ricordo che oltre 99 euro di ordine la spedizione gratuita quindi per esempio ho preso insieme a dodoria spedizione gratuita comunque confezione ecco qui tutti i lati ragazzi ma direi di non perdere altro tempo andiamo subito a vederlo fuori da essa ed ecco qui il nostro zarbon con tutti i suoi accessori cominciamo subito a vederli partiamo dalle mani intercambiabili scusate se ho queste dita sporche ragazzi ma è per via del timbro che uso per i pacchi ho provato a sciacquarle ovviamente ma per adesso non si è tolto comunque queste qui sono a palmo vedete disteso in questo modo molto figo il fatto ci sia la manica su ogni mano la manica viola poi abbiamo queste qui invece a palmo aperto in questo modo qui comunque molto benizzate piace un sacco questo azzurrino che hanno utilizzato e poi ragazzi abbiamo questa che stranamente è unica questa qui a palmo spalancato poi ragazzi abbiamo l'immancabile sfera questa qui perlata di una mecca due stelle e inoltre abbiamo un po di accessorini allora abbiamo questo qui che è una parte intercambiabile dei capelli per quando si inserisce lo scouter come vedete a questo lato leggermente più aperto appunto per far vedere per far stare meglio lo scouter poi abbiamo la treccia questa qui una treccia intercambiabile mossa molto molto figo come accessorio poi abbiamo lo scouter ragazzi attenzione adesso vedremo una cosa fighissima perché perché abbiamo tutti i visi intercambiabili che sono questi qui vedete questo qui serissimo questo qui invece urlante incazzato nero fighissimo anche il fatto che il ciondolino sia fatto in questo modo vedete mosso e poi abbiamo quest'altro qui sempre molto arrabbiato la cosa figa ragazzi è che ogni viso a questa parte dell'orecchio appunto e si può sfilare tutti i visi ripeto finalmente bandai acceso il cervello e si può inserire lo scouter su ognuno dei visi rimuovendo l'orecchio questa qui è una figata e questa è una cosa che dovevano fare fin da subito in realtà anche per loro in realtà per risparmiare per non fare dei visi unici con lo per permettere di inserirlo su tutti i visi comunque ragazzi questo qui è zarbon eccolo qui con il suo viso sorridente fatto veramente benissimo come al solito bandai sembra che si impegni maggiormente sulle figure di personaggi secondari e questo è proprio il caso eccolo qui ragazzi fatto veramente bene l'armatura purtroppo non ha sfumature qui non ci sono le pannellature nelle spalline queste sono delle cose che secondo me dovrebbero aggiungere però abbiamo questo viola pallido fatto veramente bene sulle braccia l'azzurrino della carnagione perfetto questo blu ha anche dei montandini degli stivali diciamo di queste calze fatto molto bene poi abbiamo il mantello ragazzi che è un pezzo unico in plastica rigida articolato in questo modo qui io preferisco diciamo i mantelli in stoffa però devo dire che la resa di questo mantello è molto buona anche tutte le pieghe scolpite sono veramente fatte bene purtroppo ripeto la figure non presenta sfumature da nessuna parte su questa cosa assolutamente bandai dovrebbe migliorare comunque vediamo velocemente l'articolazione abbiamo la testa che può guardare verso l'alto in questo modo qui molto limitata in realtà dai capelli può andare meglio verso il basso muoversi lateralmente ruotare in questo modo qui la treccia è articolata su sfera quindi può fare qualsiasi movimento poi abbiamo le spalline articolate le braccia possono andare in su possono andare in giù rotazione 660 gradi ovviamente butterfly joint che permette al braccio di andare incredibilmente in avanti si crea un gap assurdo vabbè però è fatta per essere vista diciamo in questo modo qui per fare delle pose particolari poi abbiamo rotazione al bicipite articolazione qui al gomito piegamento al polso nonché anche rotazione a mezzo bus abbiamo il piegamento in avanti incredibilmente buono piegamento all'indietro un po' meno però comunque con un buon raggio movimento laterale in questo modo rotazione in questo modo qui rotazione ovviamente alla vita la vita è su sfera quindi può fare anche leggeri movimenti in avanti indietro e lateralmente gambe in avanti gamba all'indietro apertura laterale in questo modo qui potremmo fare leggermente meglio come raggio rotazione la parte superiore questa pazzesca perfetta nascosta benissimo dalla calza poi abbiamo il piegamento al ginocchio anche questo ottimo davvero abbiamo il movimento del piede in su rotazione in questo modo qui rotazione laterale della caviglia e piegamento alla punta del piede misurazione altezza classica con il nuovissimo gogo super hero assolutamente da avere ragazzi se non l'avete preso tra l'altro questi due insieme spedizione gratuita col mitico monnezza spiderman marvel select e andiamo ora a vedere che la nostra figure di zarbon misura praticamente 16 centimetri spaccati ovvero 6 pollici e mezzo ed eccolo qui sulla basetta rotante in una posa plastica una delle tante pose che può assumere tra l'altro figo il fatto che in realtà questo mantello rigido serve anche ad aiutare la figura a essere stabile in queste pose un po' più dinamiche ragazzi allora per quanto riguarda il reparto accessori è molto ben fornito fighissimo il fatto che per ogni viso si possa inserire lo scouter qui devo dare un 9 pieno per questo fatto per quanto riguarda le articolazioni sono veramente pazzesche assolutamente zero limitazioni sono veramente delle articolazioni ottime avrei fatto qualcosina in più solo sull'apertura delle gambe dato anche il personaggio e sul movimento della testa in su però anche qui un 9 pieno se lo merita in pieno e per quanto riguarda invece l'estetica ragazzi come al solito sembra uscito fuori direttamente dall'anime direttamente dal manga colorazione top peccato ancora una volta che bandai non ci dia qualche particolare particolare in più ovvero qualche sfumatura quella le pannellature sulle spalline eccetera eccetera insomma qualche dettaglio in più avrebbe diciamo fatto spiccare ancora di più la figure anche se così non è male per niente e per questo do un 8 pieno il voto più o meno di media per questa figure finale è comunque un 8.5 tendente abbastanza in realtà anche al 9 come al solito bandai si impegna maggiormente sui personaggi secondari perché questo zarbone a parte le sfumaturine è perfetto ragazzi i visi sono qualcosa di eccezionale anche la corporatura e tutto il resto fatto veramente benissimo fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commento qui sotto il like al video è sempre carichissimo così come anche la condivisione io vi ringrazio sempre per la visione se volete acquistarlo lo trovate sul mio sito hara shopping qui sotto in descrizione ciao da hara da zarbone e collezionate sempre